Attenzione perché sono molto bella e interessante Impressionante Quasi non sembra una statua Ma sa signor Oscar che sembra proprio vero Eh non è vero Sì sì queste sono statui molto molto importanti Ma non si soffermi troppo Non si soffermi troppo Ma avrebbero dovuto mettere qualche capello in più Sarebbe stato perfetto Figuratevi che non potremmo farà una bella statua Bellissimo E quella Ma io ho avuto L'impressione che qualcuno mi toccasse il fianco Eh guardi steve Il fazzoletto Mi è caduto il fazzoletto dalle mani Io so un po' di allergie E spesso mi cade il fazzoletto Guardi mani che l'altro guardi a me Guardi è bello Guarda sta fai bellissimo Fai proprio bello Quello è stupendo Intanto che fa piange Piange Sì sì piange Perché piange Perché deve sapere signorina mia Che queste qua sono statui intelligenti Si chiamano statui intelligenti Perché avvertono la sensazione di quello che succede in casa Non dire la Samè Chi è Samè? Chi è Samè? Ah da vicino Quest'altra statua L'ha fatto uno scultore francese Che si chiama Louis de Samè E allora Non lo scusate È un celebre Louis de Samè Ecco perché lei crede che Ho detto la cattiva Ma non l'ho pensata No no Guardi il paro Tra le statue che piangono Samè Guardi la sfumatura del paro Guardi la sfumatura del paro Bellissimo Tu farai